Il Molise nelle ultime settimane vive un momento di straordinaria emergenza, non soltanto di natura sanitaria, si aggrava anche la condizione socio-economica di famiglie e imprese. A denunciarlo è l'associazione Mio, Movimento Italiano dell'ospitalità, che raggruppa 160 ristoratori ed esercenti che a distanza di dieci mesi dalle prime proteste torna a farsi sentire in modo vibrante, lo fa l'indomani dell'ennesima crisi politica della regione, evidenziando come rappresentanti istituzionali bene farebbero a pensare alle sorti del territorio a tutti i livelli. La zona rossa che è stata decretata a febbraio in Basso Molise è poi estesa in tutta la regione, ci ha messo letteralmente in ginocchio, si legge nel documento, dopo un anno di chiusure e riaperture contingentate. Ormai dall'autunno 2020 cerchiamo di sopravvivere, ma i segnali che provengono dalle istituzioni e dalla politica è di lontananza assoluta dall'economia reale. Siamo stufi di giochetti, balletti e teatrini che fanno solo perdere tempo, tanto a livello nazionale quanto locale. Non si sta dando il peso giusto alle enormi difficoltà in cui ci dibattiamo. Noi imprenditori privati, alla fine della pandemia resteranno solo macerie se non si interverrà con intelligenza e lungimiranza. Due obiettivi complementari da raggiungere, la tutela della salute e la messa in sicurezza di imprese e famiglie. Non vogliamo più sentire parlare di poltrone, spiegano i rappresentanti dell'associazione, ma di sostegno, di aiuti concreti, partiti ed eletti se ne facciano una ragione, altrimenti non ci sarà più nulla da amministrare dopo il covid.